Si avvicina il giorno del processo per i 19 consiglieri comunali di Messina, tra i protagonisti di Gettonopoli. Sono accusati di aver intascato illegittimamente gettoni in presenza delle commissioni consigliari. La procura ha chiuso infatti l'indagine condotta dalla DICUS e ha chiesto e ottenuto in via giudizio per 19 dei 23 consiglieri indagati. Questi sono stati ripresi più volte dalle telecamere, mentre firmavano il registro e le presenze dell'aula delle commissioni, per allontanarsi pochi minuti dopo senza partecipare ai lavori, ma intascando il gettone. Un meccanismo ben rodato scoperto dai carabinieri di Messina nel novembre scorso e che aveva portato in una prima fase a indagare su 29 consiglieri. Poi nel corso dell'indagine la posizione di sei di questi è stata stralciata perché ritenuta non rilevante dalla procura, mentre per 12 è stato previsto l'obbligo di firma prima e dopo i lavori consigliari. E lo Stato Gemma, messo in atto da alcuni consiglieri all'interno di Palazzo Zanca per diversi mesi, è stato al centro e le riprese di alcune telecamere, ma determinanti per lo svolgimento delle indagini sono state anche le intercettazioni telefoniche. Durante le conversazioni dei consiglieri emergeva la volontà di mettere in atto il sistema fraudolento con il quale si riusciva a raggiungere il numero di presenze e richieste per ottenere l'indennità massima che poteva arrivare a 2.184 euro. Adesso i consiglieri dovranno rispondere di truffa, falso ideologico e abuso d'ufficio. Fissata per il 17 marzo l'udienza preliminare. Grazie.